Aspetta, vedi? Adesso è pericoloso. Perché? Perché? Opa! Sono qui, cazzo! Così, bravo! Hai capito? Fanno velocissimo! Questa è la tua seconda variante. Tu stai dove? E fai con tutto il corpo a 360 gradi. Subito devi correre. Così, anche vedi, quando lui si gira per prendere la sua schiena o magari metterti laterale. Vai di qua. Piano, chiena dritta, attaccato, gambe larghe, equilibrato bene. Dai. Piano, piano, vai. Hop, apri. Hop, vai su, controlla bene, bene, e lavora gamba, lavora, lavora, controlla bene. Da qui, hop, a questo braccio viene a controllare mia gamba. Per non permettere, vedi, se avrò libertà. Io voglio lavorare, invece... Hop, sì, sì, così. Così. Hop, ascoli, bravo, che forza, mamma mia, sì. Sì, 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 smart, sì, sì. Sarà con te qui in parter nonostante. Hai capito, sì? Sì. Ricordi tutto, vedo che il riflesso rimane. Sì, è vero anche secondo me. Sì, sì, rimane. Il ginocchio lo spinta. Sì, sì. Chiudo. Poi, è vero. Di qua. Se sei su, giù. No, no, no. Diciamo io sono te. Qualcuno ti attacca. Vedi? Qui. Posso. Pingerti, sì, magari così. E... Ti muro da qui, ricordi? E... Pam! E' fatto. Non qui. Fuori. Però non permetti che lui si ridrisse. Lui non deve ridrissare. Sì, lui si unisce. No, unisce i bracci. No, no, no. Unisce, unisce. Oh! Vedi? Io provo un cazzo che fai. Però... Presa deve rimanere buona. Rimani presa. E tu con questa presa puoi girare l'avversario qui. Ok, è fatto lì. Questa ci può permettere da girare. Non lasciare presa. Questa presa puoi fare una capriola. Lui sarà così. Tu fai... Che ora lui fa... E tu... Tu sei giù. E tu fai una... E lui farà così. Uop! Lui farà una capriola e rimane in presa. E poi tu continui ad attaccare. Capito? Sì. Vai giù. Fai. Dieci volte sinistra a destra. Hop! Sì. Poi dall'altra poi. Ok. Poi vedi? Ricordi tutto. E poi non dimentichi che questa speda, questa braccia copre mia spalla. Compri... Oh! Adesso... Guarda. Adesso guarda. Spingi un pochettino le mie braccia indietro. Un pochettino qui. Oh! E stop! Controli la mia spalla meglio. Guarda consola la scena. Spingimi bene. Adesso io sento dolore in spalla. Già sento dolore. Chiudi? E adesso guarda a sinistra. Doi c'è camera. E vai 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 vai. E stia con gambe. Ehhh... Capito? Unica cosa che doi fare. Prendo il polso. 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 Per prendere per... Vai possibilità di metri nel volo. Sì sì sì. Per averia che esi al mio polso ogni tanto doi fare un punto. Non mostri che vai fare. PAM! È poi dappu. È poi dappu. È poi dappu. Si meti. Per un attimo. Adesso fai morbido, basta che mi spingi un po' di là, vedi cosa succede, io ho sbagliato se ti ho presentato i miei bracci, io penso che è bene, un po' serve a te, se lui dimentica di queste piccole cose, se tu vuoi liberarsi, però per fare questo spinto tu devi fare un ponte abbastanza potente di là, lui devo credere, per l'equilibrio, e di là ho, basta anche quella piccola come di spesso per mettere mano, adesso solo io ti tengo, e tu pian piano vai, ti to, vai vore, lok sidio, e poi devo la scat handlar ancora qui la sopra mia spalla, vedi, da sola va 주ò, ora c'era sempre sabata, di romp, bravo, poi anche braccio si messe attaccatissimo a mia corpo, attaccata meny la ça sopra, controlla me, avicina me controlla, oh, oh, senti, oh, ehi.